Sei barzellette per sghignazzare sulle professioni più blasonate. Da avvocati a medici. Perché gli avvocati non possono giocare a nascondino? Perché nessuno li cerca? Un uomo dal medico. Dottore, mi aiuti. Ho un braccio più corto dell'altro. E il medico? E allora non prendere le cose troppo alla lontana. Qual è il modo più veloce per far arrabbiare un ingegnere? Dirgli che ha commesso un errore di calcolo.